I pagamenti digitali sono una rivoluzione per la pubblica amministrazione. Come sta andando il processo di adeguamento? Di eri che sta procedendo abbiamo una scadenza obbligatoria per le pubbliche amministrazioni per aderire al nodo dei pagamenti, quindi al pago PA. Per quanto riguarda i fornitori di servizi di pagamento, quindi prima di tutte le banche, non c'è una scadenza di obbligo, è chiaramente una facoltà dei prestatori di servizi di pagamento di aderire e offrire servizi per far effettuare dai cittadini i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni. Già molte banche hanno aderito, hanno quindi stipulato una convenzione con l'Agenzia per l'Italia Digital l'ABI per favorire questo processo ha stretto un accordo di collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale in modo da favorire quelle banche che non l'hanno ancora fatto nella parte amministrativa di adesione al nodo dei pagamenti pubblici e in questo modo pensiamo di accelerare appunto un processo di ammodernamento dei servizi pubblici e delle modalità con cui essi possono essere pagati a favore appunto dei cittadini ma anche di una modernizzazione della pubblica amministrazione. elemento che a nostro giudizio è chiave sia per favorire quel processo di adozione dei pagamenti elettronici nel nostro paese che come ci diciamo più volte rimane ancora un po' indietro rispetto alla media europea sia per favorire il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione. come ci ha detto in apertura del nostro convegno la professoressa Raffaela Giordano e poi ci ha ribadito il dottor Ferro della Banca d'Italia è volano per una crescita economica sostenuta e per la digitalizzazione del paese quindi questi gli elementi importanti che vedono ABI molto impegnata su questo fronte. peraltro il processo sta coinvolgendo anche le amministrazioni centrali quindi non solo gli enti locali soprattutto attraverso le regioni negli anni scorsi avevamo avuto le testimonianze delle regioni che erano più avanti nel processo quest'anno abbiamo voluto avere la testimonianza di un ente diciamo centrale quindi l'INAIL che ci ha rappresentato il suo progetto di adesione che parte dal pagamento dei contributi assicurativi per i collaboratori domestici o meglio per il lavoro domestico ma poi si amplierà a tutte le altre attività e quindi servizi che dovranno essere pagati nei confronti dell'INAIL accanto appunto al lavoro delle pubbliche amministrazioni a quello dell'ABI abbiamo avuto anche un quadro aggiornato della diffusione di questo nuovo servizio che è stato elaborato dal consorzio CBI che è appunto il Cbil quindi la possibilità di pagare anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni delle bollette, quindi dei pagamenti avvisati attraverso il proprio home banking abbiamo poi alla fine fatto un focus proprio sulle esigenze dei clienti cittadini quindi nella loro interfaccia sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni ma sia delle banche che consentono di effettuare questi pagamenti Complessivamente possiamo essere fiduciosi che la scadenza del 2016 sia rispettata? Diciamo che sicuramente il prossimo anno come poi è stato più volte ripetuto nell'ambito del convegno vengono a materializzarsi le condizioni perché ciò possa diventare realtà quindi siamo confidenti che il prossimo anno potremo tracciare il primo bilancio del processo Grazie 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 Grazie